Si iniziano ad irradare le nebbie sul futuro della ricostruzione di quella che per tutti, fino al 6 aprile 2009, è stata la casa degli Aquilani. È arrivato infatti il via libera della sovrintendenza unica per l'Aquila e Cratere al progetto esecutivo per la ricostruzione di Palazzo Margherita, sede del municipio dell'Aquila e ottimisticamente si può pensare ad un avvio dei lavori di ricostruzione e riparazione dell'edificio già dal prossimo mese di settembre. Si è svolta giovedì scorsi infatti l'ultima riunione alla quale hanno preso parte tutti insieme alla sovrintendenza il responsabile unico del procedimento e rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori Samoa Restauri. Un incontro dal quale sarebbero emersi i pareri positivi al progetto presentato al genio civile. Come molti ricordano il percorso per l'ok al progetto ha subito diversi dirittamenti, visto che inizialmente si era parlato di gennaio e successivamente del mese di giugno. A complicare le cose il passaggio dei sottoservizi, i cosiddetti tunnel intelligenti che si stanno realizzando per il passaggio di rete e servizi. La vicinanza con lo storico edificio ha portato ad una revisione del progetto ed un riposizionamento degli ancoraggi a terra del palazzo per garantirne una maggiore stabilità. Modifiche per le quali si è atteso il parere positivo della sovrintendenza dopo mesi di studi e approfondimenti. Il cantiere di ricostruzione da 11,7 milioni di euro è stato aggiudicato alla ditta campana Samoa Restauri a 8,9 milioni dopo un ribasso del 26%. I fondi sono disponibili già dal 2010, stanziati dall'allora commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi, a cui si sono aggiunti nel 2012 i 5 milioni della donazione di Federcasse BCC. Un raro tumore al femore su un bambino di 9 anni di Roma con dolore acuto che lo svegliava di notte e rischio stop nella crescita dell'osso. All'aquila il tumore benigno gli è stato bruciato in pochi minuti con termoablazione a radiofrequenze e dopo due giorni il piccolo è tornato a casa perfettamente guarito. La radiologia interventistica d'urgenza dell'ospedale dell'Aquila tra i pochissimi centri italiani e unico in Abruzzo specializzata nella diagnosi tramite biopsia e nel trattamento dei tumori muscoloscheletrici ha eseguito nei giorni scorsi un trattamento molto delicato soprattutto per l'età del piccolo paziente la cui famiglia risiede a Roma. La procedura specialistica praticata sul bambino è una delle 79 effettuate all'Aquila nel corso degli ultimi 12 mesi, molte su pazienti che vengono affidati alla radiologia interventistica aquilana dall'Istituto Regine Elena di Roma con cui il San Salvatore lavora da anni a braccetto. Come specialità la branca della radiologia interventistica si occupa di tanti aspetti ma gli ospedali che in Italia trattano i tumori all'osso benigni e maligni si contano davvero sulle punte delle dita e si trovano per l'opio a Torino, Bologna e Roma. È il motivo per cui di tutti i pazienti che passano per l'Aquila il 60% arriva da fuori Regione. La termoablazione sul bambino romano di 9 anni ricoverato e assistito dal reparto di clinica pediatrica è stata attuata con radiofrequenze che attraversano la pelle e bruciano la massa tumorale in pochi minuti a temperature anche superiori a 60 gradi. La distruzione della parte dell'osso attaccata dalla malattia è avvenuta sotto guida attacca. Il radiologo interventista Luigi Zugaro con alle spalle diverse centinaia di trattamenti di questo tipo con una minuscola sonda ha raggiunto il punto del femore malato e ha proceduto a bruciare il tumore. La termoablazione di Chiara Zugaro ci ha consentito di evitare l'intervento chirurgico che su un paziente di 9 anni avrebbe avuto strascichi rilevanti con ampie cegarice e possibili complicanze post-operatorie. Il bambino è stato dimesso dopo due giorni e ora sta bene. L'Aquila Calcio torna al lavoro per tornare protagonista del calcio abruzzese. Solo qualche settimana fa il Rosso Blu facevano i conti con una cociente retrocessore in Serie D. Oggi a Campo Felice la squadra si ritroverà agli ordini del nuovo allenatore Massimo Morgia, chiamato dalla dirigenza a risollevare le sorti del calcio nel capoluogo. Prima seduta già nel pomeriggio per conoscere i convocati e testare metodologie di allenamento e il gruppo, composto da giovani, molti provenienti dalla Berretti, ed elementi di esperienza, in attesa che si definiscano trattative per portare all'Aquila elementi in grado di completare l'organico. È grande l'attesa di tifosi che si aspettano una pronta reazione di squadra e società dopo la debacle della scorsa stagione. Una sorta di calma apparente, come testimoniato dal messaggio, apparso su striscioni e media cittadini, con cui si invita la dirigenza, senza troppi giri di parole, a lasciare in caso di mancata vittoria del campionato. Una sfida lanciata da tifosi è raccolta dal presidente Corrado Chiodi, alla guida del Sotelizio Aquilano da quattro anni, che in un'intervista ha parlato di abbandono in caso di mancata promozione. Obiettivo che non sarà facile da raggiungere, ma rimane prioritario in casa aquilana. La scelta del allenatore Massimo Morgia lo testimonia. La voglia di far bene c'è tutta, le motivazioni anche, e non manca il sostegno di un grande ex, ma dimenticato dalla piazza aquilana, Giovanni Pagliari, il guru dell'approvazione in Lega Pro, che sui social network ha fatto sentire tutta la sua vicinanza alla città e tifoseria. Un in bocca al lupo di cuore al mio amico Massimo Morgia. Sono sicuro che entrerà nel cuore di tutti voi tifosi, perché è una persona seria e vera. A voi tutti l'augurio di tornare a gioire, lo meritate, sempre nel mio cuore. Forza l'Aquila, ha scritto Pagliari. Grazie.